Salve, sono Massimiliano Mancini. In questo corso approfondiremo la parte speciale del diritto penale. In particolare ci occuperemo di puntualizzare il sistema punitivo del codice ROCCO, approfondire la struttura del codice penale vigente, la distinzione tra delitti e contravvenzioni e tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, oltre che di altre figure rilevanti ai fini dell'applicazione della legge penale. E poi approfondiremo alcuni delitti in particolare. Il codice penale, come è noto, raggruppa i delitti secondo alcuni elementi che li accomunano. In particolare si occupa e raggruppa sotto capi il delitti contro la pubblica amministrazione, a sua volta suddivisi, come vedremo in seguito, tra i delitti dei pubblici ufficiali e i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, i delitti contro la giustizia, i delitti contro l'ordine pubblico, i delitti contro l'inconumità pubblica, i delitti contro la fede pubblica, i delitti contro la persona, i delitti contro il patrimonio. Iniziamo quindi con questa prima parte in cui approfondiremo la storia del codice penale, le fonti filosofiche del codice penale e il sistema punitivo-retributivo che ispira il nostro vigente codice. Dunque, come è noto, i codici penali che sono succeduti in Italia sono stati fondamentalmente tre, di cui il primo, il codice del 1861, del 17 marzo in particolar modo, non ha fatto altro che estendere all'atto dell'unità d'Italia il vigente codice penale sabaudo che è stato approvato nel 1839 nel Regno di Sardegna. Quindi il primo vero codice del Regno d'Italia è il codice Zanardelli che risale al 30 giugno del 1889 e riunisce il codice penale sabaudo e il codice penale toscano che, come è noto, aveva già abolito la pena di morte fin dal 1786 e il codice Zanardelli va non solo ad essere il primo codice del Regno d'Italia, ma ad essere il codice unico vigente nel Regno d'Italia, perché prima di quel momento all'atto dell'unificazione dell'Italia conviveva il codice penale sabaudo con il codice penale toscano. Poi con l'avvento del fascismo si ha una rivisitazione del sistema penale, viene reintrodotta la penna di morte che già in verità era stata reintrodotta prima della vigenza dell'etate in vigore del codice Rocco e quindi il 19 ottobre del 1930 si approva l'attuale codice vigente e questo entrerà in vigore il primo luglio del 1931. Dunque, i principi che hanno ispirato il codice Rocco c'è da approfondire e da precisare che il ministro guardasigilli dello Stato fascista Alfredo Rocco seguì personalmente la realizzazione del codice penale e del codice processuale penale e lui tentò, riuscendoci a realizzare una sintesi fra la scuola penale classica e la scuola positiva, realizzando questa corrente che fu chiamata tecnicismo giuridico. Che cosa quindi sono gli elementi filosofici fondamentali che sono la base del codice Rocco? Innanzitutto il sistema punitivo retributivo che è un principio proprio della scuola classica, poi il sistema del doppio binario, quindi la pena e la misura di sicurezza, l'una indipendente dall'altra, principio proprio della scuola positiva. Inoltre, come già detto, viene reintrodotta la pena di morte che era stata abrogata dal codice Tardelli, ma che in verità era già stata reintrodotta con delle leggi precedenti. Dunque, le sanzioni del codice Rocco, come si è detto, sono ispirate al sistema punitivo retributivo. Questo è un sistema della scuola classica che vuole conseguire in verità due finalità. La deterrenza generale, ossia intimorire la collettività per impedire la commissione di reati. E poi una finalità più specifica, ossia la deterrenza individuale e quindi dare sofferenza al reo per scoraggiare la reiterazione. Con un sistema di azione e reazione che dà ad ogni reato una pena commisurata alla gravità, secondo il principio appunto di tot crimen, tot pena, quasi come dei ragionieri che fanno i calcoli e stabiliscono, calcolando che tipo di reato, che gravità che si è fatta, che cosa dare in cambio. Quindi, sulla base di questo, la pena è detentiva o pecuniaria e la quantificazione della pena, come si è detto, è direttamente proporzionale alla gravità del reato ed eventualmente al cumulo dei reati ed eventualmente al conteggio delle aggravanti o delle attenuanti, secondo i casi. Approfondiamo quindi la struttura del codice penale vigente, quindi del codice Rocco. Dunque, si suddivide in tre libri. Il primo libro si occupa dei reati in generale e questo è affrontato nel corso sulla parte generale del diritto penale. Noi ci occuperemo quindi di quello che riguarda il libro secondo e il libro terzo, quindi il libro secondo parla dei delitti in particolare e il libro terzo delle contravvenzioni. Il libro secondo in particolare, quindi quello che si occupa dei delitti in particolare, si suddivide a sua volta dei delitti contro la personalità dello Stato, dei delitti contro la pubblica amministrazione, dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, dei delitti contro il sentimento religioso e contro la vitalità dei defunti, dei delitti contro l'ordine pubblico, dei delitti contro l'incolumità, dei delitti contro l'ambiente, dei delitti contro la fede pubblica, dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, dei delitti contro il sentimento per gli animali. Questo è stato introdotto recentemente, così come i delitti contro l'ambiente, dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe che è stato abrogato, dei delitti contro la famiglia, dei delitti contro la persona, dei delitti contro il patrimonio.